Ciao family! Come state? Bentornati sul canale! Oggi un video un po' così, un video che mi avete chiesto in tantissimi e che cos'è? L'avete visto dalla copertina? Vi faccio vedere come realizzo i miei occhi per le mie creazioni. Tutti quanti diranno, oddio, adesso li faranno tutti quanti i cuori ai tuoi! No ragazzi, gli occhi sono gli occhi, non li ho inventati io! Ho trovato un metodo con uno stampo per la resina, facendo appunto i bulbi bianchi e poi lavorando con la resina UV della Lisa Pavelka che è fatta apposta per resistere anche alle temperature alte del forno, perché la resina normale si ingiallisce in automatico appena cuocete le vostre creazioni. Quindi, vedetevi il video, ci vediamo a fine video per le considerazioni. Pronti, partenza? Via! Eccoci qua, con il nostro bellissimo bulbo bianco creato con l'iWhite della Resin Pro, gli stampi li ho presi su Aliexpress, un po' di fimo, io ho scelto il viola scuro e l'azzurro abbastanza forte, non proprio pastelloso, e poi se avete delle perline nere appunto di vetro, oppure potete sempre fare delle palline nere di fimo. La pistola, la Heat Gun, quella lì appunto che ci serve per cuocere, la Lisa Pavelka appunto resina UV Magic Gloss che serve appunto per andare anche in forno, quindi resiste alle temperature altissime. Prima cosa importante, prendiamo una bella pallina piccolina, non troppo grande, della nostra appunto, della nostra pasta polimerica preferita, io ho scelto il viola come vi dicevo prima, e andiamo a coprire l'intero buco appunto del bulbo, lo copriamo totalmente ed è sottilissimo, credetemi, e lo andiamo a cuocere con la Heat Gun, attenzione alle dita perché scotta di brutta sai. Quindi, allora, vedete, è praticamente cotta, prendiamo una pallina adesso dell'altro colore, in questo caso ho scelto l'azzurro, e come vedete andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, andiamo a spiaccicarla, e in questo caso esce anche più facile perché il viola che c'è sotto è anche un po' caldino, quindi sembra quasi bello, bello, molto, molto, bello, bello, bello. Con qualcosa a punta di gomma, silicone, o con un ago, io credo che sia meglio qualcosa di silicone e migliore in questo momento, andiamo a spargere, a far salire quasi per la metà dell'occhio il nostro colore. Poi se avete un ago, vi disegnate una sorta di croce al centro, guardate cosa sto facendo, in modo che ci andiamo a creare i punti cardinali per poi fare le varie striscette che sono all'interno dell'iride, in modo che il viola che c'è sotto spunta, guardate, dall'azzurro, andiamo un po' più veloce che è meglio, e andiamo a fare proprio un occhio realissimo, vi giuro che dopo l'effetto sarà assurdo. Andiamo a cuocere anche questa parte qui che abbiamo appunto appena fatto con l'azzurro, stiamo attenti, facciamolo per 7-8 minuti, ma nemmeno perché comunque il film è veramente poco e sottilissimo, veramente, veramente poco, quindi non ci state tantissimo, ogni tanto tastate con le dita per vedere se, è duro, insomma, dovreste riuscire in 6-7 minuti a cuocerlo. Poi, adesso con un pigmento a vostra scelta, io adesso ho scelto questo qui che, non mi ricordo come si chiama, mi sembra che si chiama l'ira di le bimbi, andiamo a spargerlo un po' dentro il nostro bulbo, in modo che l'occhio ci sembri un po' più magico, per dare questo effetto tempestato di pietre preziosa, no? Dopodiché possiamo aggiungere la nostra perlina nera, oppure la nostra pallina di fimo nero, che potete fare di qualsiasi grandezza che volete. Poi, con la resina UV di Isa Pavelka, la Magic Gloss, andiamo a riempire non del tutto, cioè riempiamo tutto fino all'orlo, il primo strato, diciamo, del nostro cristallino. Perché, non del tutto, non facciamo una cupola troppo grande, la andiamo a cuocere per 12 minuti, ok? Non esagerate troppo con la prima cupola, perché la andremo a fare altre due volte. Se notate bene, qui ho fatto ingiallire un pochettino la resina, non è successo nella lampada UV, ma l'ho fatto apposta con il cannello, perché noi non abbiamo gli occhi bianchi bianchi, ne abbiamo un po' quello sfumato giallino così. Andiamo a fare il nostro secondo strato di resina UV nel cristallino, dando un effetto un po' più cupola ai nostri occhi. Fate attenti, state attenti alle bollicine, perché si formeranno, col cannello le togliete via. Altri 12 minuti nella nostra bella lampada UV. Eccoli qua. Adesso sono praticamente quasi pronti. Perché dico quasi? Perché adesso, non sono convinto, guardate che bell'effetto già così, sono super tridimensionali, adesso dobbiamo andare a spalmare un po' di resina nella parte appunto del bulbo, perché noi abbiamo gli occhi umidi e lasciarlo così opaco sarebbe veramente un peccato, visto che stiamo facendo una cosa super realistica, ho deciso che andiamo anche a spennellare il bulbo. Facciamo attenzione, prendiamo una pinza, qualcosa che ci permetta comunque di spennellare tutta la parte comunque bianca, o appunto giallina come l'ho fatta adesso. E andiamo in forno per altri 12 minuti! E già, e già, e già. Facendo attenzione a non fare troppe cose in 3D, perché non so se avete visto, prima c'erano delle cosine un po' in sovraimpressione, quindi ho dovuto sistemarle. Eccoli qua, i nostri occhietti sono pronti, se avessi usato forse un azzurro un po' più leggero sarebbe stata la cosa migliore. Adesso vi faccio vedere anche la luce del sole, insomma sole in questi giorni che piove sempre, odio, però, raga, l'effetto finale... Oh, aiuto! Ok, riproviamo. Eccoci qua, sono pronti, sono stupendi. E niente, non so perché ho fatto questa ripresa, che cosa è successo qui? Oddio, sì, ci siamo. Sì, li state vedendo meglio, e qui si vedono anche meglio tutti i pigmenti. Non ho tagliato quella parte, scusatemi, però può accadere. Niente, spero vi sia piaciuto. Grazie! Non so voi, ma forse ho sbagliato qualcosa, non ci vedo benissimo, però almeno ho gli occhi azzurri adesso, eh? Scherzavo, spero vi sia piaciuto il tutorial, sono venuti carinissimi, e questi andranno subito ad essere infilzati nella prossima testa, nel mio prossimo drago, che appunto sarà una sorpresa, perché, non ve lo dico adesso, lo dico soltanto quando succederà questa cosa, un po' per scaramanzia, un po' perché non voglio tirarmi brutte cose addosso, la sfigia insomma. Quindi, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete bisogno di altre informazioni, vi ricordo che tutti i materiali che avete visto qui nel video sono trovabilissimi, sia sul sito ResinPro per la Resina White, appunto, per fare la, il bulbo, gli stampi purtroppo non sono trovabilissimi qui, ma li ho trovati su AliExpress, e sono di varie misure per gli occhi, e sono meravigliosi, quindi magari cercateli, invece, tutte le altre cose, i pigmenti, eccetera, eccetera, il film, lo trovate sulle bimbi. Grazie mille, ci vediamo alla prossima, spero di servi stato d'aiuto, come al solito, un abbraccio e acchiappatevi, ciao!